Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Michelle Lunziker ultimamente è stata beccata nel lettone con il suo trussardi, ma cosa è accaduto esattamente? Michelle Lunziker di recente ha aggiornato il suo profilo Instagram inviando gli aguri di Pasqua da una località di montagna Gli scatti infatti la mostravano libera e serena all'aria aperta, intenta a godersi la pace e la serenità della natura Ma come mai c'è stata un'esplosione di commenti? Michelle Lunziker ecco con chi divide il letto Michelle Lunziker è uno dei volti più conosciuti e amati del mondo dello spettacolo nostrano Ha iniziato il suo percorso quando era molto giovane sfilando per marchi prestigiosi come Giorgio Armani, Rocco Barocco e La Perla In seguito, verso la metà degli anni 90 ha iniziato a comparire in diversi show come Buona Domenica, Mai Dire Gol del lunedì e i Cervelloni Nel 2001, insieme a Claudio Bisio, è stata al timone di Zelig e, sempre nello stesso anno, ha condotto scherzi a parte È stata anche alla guida di Paterissima per cinque edizioni Attualmente, insieme a Gerry Scotti, presenta Strescia la notizia Quando però non è impegnata in televisione o su qualche palcoscenico ama godere della compagnia dei suoi adorati cani Possiede infatti un barboncino color pesca di nome Leone che cura e vizia come un figlio Fino all'anno scorso poi, con la showgirl c'era anche Lily, un altro barboncino fedele compagna di Michelle per 11 anni La conduttrice posta spesso scatti insieme ai suoi quattro zampe tra cui c'era anche un levrierino Lei ha una pagina Instagram seguita da più di 5 milioni di persone dove è molto attiva, ma allora cosa ha scatenato la valanga di commenti? Dolcezza tra le lenzuola.Michelle Luntzic era condiviso, sul suo profilo Instagram, uno scatto sul lettone insieme a Odino Trussardi, il tenero levriero che aveva regalato all'ex marito Il dolce quattro zampe si chiama così perché era l'unico della cucciolata ad avere la coda stotta Il cagnolino, la cui razza è simbolo del brand familiare del suo padrone, è con la famiglia dal 2020 ed è subito diventato una star del web grazie alla sua simpatia Il quadrupede ha anche una propria pagina Instagram con quasi 35 mila followers dove vengono postati scatti della vita quotidiana e di quando indossa con eleganza magliettine a collo alto e cappottini con il suo nome impresso Con la separazione il piccolo ha seguito Tommaso, ma evidentemente ogni tanto torna a far visita alla presentatrice che non vede l'ora di coccolarlo un po' Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao